buongiorno ragazzi bentornati in questo nuovo video tutto tech io sono mickey e io sono marco ogni tanto ve lo ricordiamo magari ve lo dimenticate siamo nel periodo natalizio e quindi come ogni anno noi della tutto tech siamo sensibili alle festività natalizie e ci informiamo se per caso la nostra assistente vocale ci dà qualche qualche chicca per poter parlare con colui che ci porta i regali alla vigilia di natale a natale esatto chi ci segue da un anno da più di un anno circa saprà che noi bene o male tutti gli animali anche soprattutto l'anno scorso abbiamo affrontato questo tema cercando di parlare direttamente con babbo natale mica poco e quindi noi avendo diretto contatto con babbo natale e anche quest'anno vi faremo qualche esempio di come far sì che la nostra assistente ci ascolti e ci metta in contatto con babbo natale ma prima di tutto questo ragazzi non vi dimenticate dovete iscrivervi al canale lasciare un bel mi piace e attivare la din 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 campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qual volta noi caricheremo un nuovo video e per tutti coloro che non l'hanno vista ma quelli che l'hanno vista la vogliono rivedere di beccate la nostra sigla eccoci qua ragazzi abbiamo qui giusto appunto una bella assistente vocale un ecodote di terza generazione vi ricordiamo che in offerta se volete fare un regalo fare bella figura e far entrare i vostri amici o parenti nel fantastico mondo della domotica low cost eccolo qua 19 euro 99 lo trovate su amazon vi lasciamo qui sotto il link in descrizione ma bando le ciancui marco ora vi farà scoprire l'arcano per mettervi in contatto col nostro affuto amico e quindi andremo a dire fammi parlare con babbo natale ciao qui al polo nord ci siamo quasi regali impacchettati slitta in ordine renne prontissime anche tu hai già tutto pronto per natale sì sì grandioso super ci sentiamo domani per una nuova sorpresa natalizia ok quindi invitandoci domani dovrebbe chiedendo nuovamente di poter parlare con babbo natale dovrebbe fare cose diverse quindi quotidianamente se gli fate questa domanda vi dovrebbe proporre qualcosa di nuovo ogni giorno qualcosa di simpatico di curioso così anche per i bambini soprattutto fa tanto scene ed effetto sì adesso che poi inizia il periodo natalizio i bambini sono a casa da scuola se magari si stanno annoiando ogni tanto due chiacchiere con babbo natale penso che ai più piccini naturalmente faccia piacere beh sinceramente anche a me sì 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 un po ci sentiamo a babbo natale alla fine noi piace alla fine noi piace e ve lo diciamo due che si sono vestiti per anni da babbo natale per far contenti i bambini della famiglia sì la pancia c'è è inutile che lo scrivete nei commenti lo sappiamo quella la facciamo naturale provavo a infilare il cuscino ma tante volte non ci stava sì 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 diciamo che siamo coerenti noi cerchiamo di mantenere una forma tonda e se volessimo sapere proprio in questo istante dove si trova babbo natale possiamo saperlo cioè quindi stalkeriamo babbo natale prova un pochino dove si trova babbo natale conosco qualcuno a cui chiedere babbo natale dove sei amici cari sto festeggiando il mio natale in anticipo di cinque giorni sarò ben impegnato nelle prossime ore così oggi tocca a me godermi la magia delle feste per l'occasione la signora natale ha preparato prelibatezze a non finire e siamo tutti qui riuniti renne ed elfi fra frutta secca cedro candito pan di zenzero torroncini e mille altre leccornie e voi come festeggerete sono curioso a domani ma io partirei con uno spaghettino con le vongole con quel menu lì a panza avanza 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 la panza direi che queste domande potete provarle a farle anche voi naturalmente e a farci sapere qui sotto se magari cambia anche la risposta se nel quotidiano appunto avete risposte diverse soprattutto dai vostri bambini la reazione che hanno avuto perché almeno noi con le con le nostre bimbe quando erano un po più piccole hanno fatto la domanda si sono divertite tanto ad ascoltare la risposta che dava poi con questo bocione di babbo natale ancora meglio ancora meglio e se volessimo sapere quanto manca al natale quanto manca al natale mancano cinque giorni a natale se vuoi d'ora in poi posso farti dire quanto manca direttamente da babbo natale vuoi sentirlo sì ciao lascio la parola babbo natale mancano cinque giorni a natale ma dov'è il mio agrifoglio porta fortuna ah eccolo qua meglio che lo vada subito ad appendere alla fibbia della centura così sono sicuro di non scordarmelo prima della partenza potrebbe usare anche un tile che sono quei dispositivi per trovare le chiavi in giro per casa anche quello un bel regalino per natale esatto anche quella una bella idea comunque carino cioè anche questo è carino sì anche quest'anno diciamo che amazon ha messo a disposizione per i nostri eco delle simpatiche risposte per comunque intrattenere un pochettino nulla di particolare però dai è qualcosa di carino che può intrattenere così ogni tanto qualche serata i bambini che magari sono incuriositi da questa voce di babbo natale questa figura mitologica bene ragazzi speriamo che queste poche idee che vi abbiamo dato però belle concrete belle toste per poter parlare con babbo natale vi siano piaciute ma soprattutto e sinceramente di più ai vostri figli quindi se abbiamo fatto contenti tra virgolette un pochettino i vostri bimbi siamo contenti anche noi un po da babbo natale anche noi la barba c'è e quindi siamo lì ci siamo ci siamo ragazzi io direi che per questo video è tutto vi auguriamo con cinque giorni di anticipo buone feste ma poi ve ne augureremo ancora che faremo nuovi video e quindi al prossimo video ciao ragazzi ciao ciao